Abbiamo un'operazione. Recupero di una persona scomparsa. Prigioniero 17315. Palmer. Cosa vuole? Lei potrà aiutarci a localizzare e recuperare la persona scomparsa. Se solo la vita fosse così semplice... Pensi che possiamo fidarci? Quasi sicuramente no. Dunque, quest'uomo cos'ha di tanto speciale? Progetta bombe atomiche. Grandioso. Se una di quelle cose esplode, non conta più altro. Voi vi conoscete tutti, non è vero? Non vuole sapere che intenzioni abbiamo? Portarmi fuori a cena, mi auguro. Felice di essere qui. Molto. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.